Buongiorno da Etv Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming anche sul nostro sito www.etvmarque.it, la nostra pagina Facebook e la nostra app di Etv Marche. In primo piano la tragedia di Grotta Zolina perché questa mattina un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha visto il corpo accanto al portone di casa. Inutili i soccorsi da parte della misericordia di Monte Giorgio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di fermo per avviare le indagini. Il ragazzo italiano viveva con la famiglia nell'appartamento della stessa via. In breve sul posto anche il sindaco Alberto Antoniozzi che si è messo a disposizione delle autorità per agevolare le operazioni ed esprimere la vicinanza. Alla famiglia resta il giallo sul motivo del decesso. Nella serata, nel tardo pomeriggio di ieri, l'attracco invece al porto di Ancona della Ocean Viking, la nave ONG con 336 migranti. Operazioni che abbiamo seguito, filmato e raccontato ieri in diretta sulla questione e l'intervento anche del vice sindaco del comune di Ancona Zinni che fa o meglio esprime quella che è la posizione dell'amministrazione comunale del capoluogo. E' ovvio che se iniziano ad arrivare sbarchi come questi con un aumento del 69% del numero delle persone è di tutta evidenza che anche comuni come Ancona avranno difficoltà nel tempo a reggere l'accoglimento di queste persone. E da questo punto di vista comunque ringraziamo il Presidente del Consiglio Meloni e il Governo perché si sono mossi sicuramente da un lato chiedendo una responsabilizzazione all'Unione Europea nella gestione di questo problema migratorio e dall'altra avviene comunque un'accoglienza e anche il comune di Ancona fa la sua parte perché è evidente che se lo Stato ce lo chiede noi siamo chiamati a dare il massimo. A questo proposito abbiamo appunto come comune di Ancona messo in campo la miglior struttura che potevamo mettere in campo, cioè il palacasali per accogliere tutte le operazioni del post sbarco, vale a dire tutte quelle operazioni di identificazione effettuate dalla Polizia di Stato ma dall'altra sono anche un'occasione per dare un ristoro, un pasto e eventualmente se le operazioni dovessero protrarsi nella notte ci sono anche delle brandine a disposizione per far dormire le persone sbarcate. Esatto perché le operazioni di riconoscimento proseguiranno al pala indoor, saranno fatte lì quindi una volta che i migranti scenderanno dalla nave poi saliranno su dei pullman che sono già arrivati e arriveranno al pala indoor per espletare tutte quelle che sono le operazioni di riconoscimento. Ricordiamo anche che poi ci sono 20 minori che invece sono accompagnati da familiari. Per quanto riguarda i 10 minori, diciamo stranieri, minori non accompagnati ovviamente il Comune di Ancona ha delle strutture di riferimento quindi avranno sicuramente un pronto luogo dove pernottare e dove stare nelle prossime settimane. Complessivamente gli altri andranno nel resto delle marche e invece la maggior parte insomma delle persone che saranno sbarcate andranno in Puglia, Toscana e Lazio. A Iesi questa mattina sei ore di sciopero davanti all'azienda Team System che ha deciso da settembre la chiusura appunto del polo di Iesi e il trasferimento di 300 lavoratori in quello di Pesaro. È una scelta che è calata molto dall'alto senza nessun preavviso, è una scelta che ci è stata presentata come una scelta strategica a livello aziendale. A volerci credere, diciamo sì, è una scelta strategica che prevede chiaramente un ridimensionamento dei costi perché viene abbandonata una sede importante, costi che ricadono completamente sui lavoratori. Stiamo parlando di un gruppo di 300 persone. Ci ha visto partire da tre sedi che erano Senigalli, Ancona e Fabriano arrivare tutti e qui a Iesi. Questo ha significato per tutti noi dover comunque riabituare e riorganizzare le nostre vite, le nostre famiglie, i nostri impegni. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta e adesso arriviamo ad un nuovo trasferimento in una sede ancora più distante soprattutto per i colleghi che vengono dalla zona di Fabriano, dall'Umbria. Quindi una nuova riorganizzazione delle nostre vite e soprattutto ci domandiamo il prossimo quando e dove sarà. Da settembre 300 lavoratori saranno trasferiti a Pesaro, 75 chilometri più a nord. La Team System, azienda che si occupa di software e servizi di formazione per azienda, imprese, artigiani e microimprese, ha deciso infatti di chiudere il polo di Iesi. Trasmarrimento e rabbia con le bandiere di fiome, Wilma a fare da sfondo davanti alla sede di Via della Figuretta, è andato in scena uno sciopero di sei ore. Le alternative che abbiamo sono poche e quello che ha fatto star male sicuramente è la leggerezza con cui ancora una volta un'azienda seria di importante come la Team System che tra l'altro è in continua crescita e quindi non ha problemi particolari, tutt'altro per fortuna, la leggerezza con cui vengono prese queste decisioni, come se fosse normale spostare di punto in bianco 300 persone a questa distanza con tutto quello che consegue, quindi c'è molto malumore e lo sciopero a male in cuore ma era un atto, crediamo, dovuto. È complicata, lo sappiamo tutti oggi, nel mondo del lavoro ci sono delle tensioni che si manifestano e quando si manifestano queste tensioni è importante che le istituzioni ci siano, quindi la mia presenza qui vuole manifestare innanzitutto una vicinanza rispetto alle preoccupazioni che emergono e poi c'è anche la volontà di rendersi utili nella misura in cui ci si può rendere utili per una soluzione, quindi abbiamo interlocuzioni aperte naturali con i lavoratori, con le sigle sindacali e anche con l'azienda che mi ha dato la sua disponibilità, quindi venerdì ci vedremo, faremo una chiacchierata per misurare quelle che possano essere le possibilità di una soluzione condivisa. Un anno di attività in numeri ma anche in investimenti e comunque nella gestione della sanità per l'AST di Macerata. C'è un incremento di tutte le attività, dalle ambulatoriali alle chirurgiche, quindi è un'azienda che è in continuo movimento e in risalita. Dico più volte che è un'azienda composta da serissimi professionisti che hanno a disposizione delle apparecchiature d'eccellenza. Cresce l'attività chirurgica del 35%, 3459 sono i dipendenti, di cui 506 i dirigenti medici. In genere è positivo il trend di assunzioni a fronte delle varie cessazioni, 82 le cessazioni di dirigenti medici a fronte di 95 assunzioni ad esempio. Sono solo alcuni dei dati del primo anno di attività dell'azienda sanitaria territoriale di Macerata. I dati sono di una domanda sanitaria in continuo aumento a cui ha corrisposto un aumento di prestazioni sanitarie in tutta la regione ma in particolare nell'AST di Macerata che lo voglio ricordare durante i due anni di Covid aveva coperto i servizi con il proprio personale nello stabilimento Covid di Civitanova Marche. A proposito di Covid Hospital, Macerata ha ricordato le vittime e della pandemia nella giornata nazionale di commemorazione. Il Covid Hospital è stato smantellato e l'ATAC 128 strateghi che era allocata all'interno del Covid Hospital di Civitanova viene trasferita all'ospedale di Recanati secondo una prospettiva di scenario che è stata delineata negli atti di indirizzo della nostra regione. A Civitanova verrà acquistata una nuova ATAC. Per quanto riguarda i fondi PNRR, gli investimenti in arrivo e la realizzazione di case di comunità valgono per 15.500.000 euro, mentre per gli ospedali di comunità 3.490.000 euro. Per le centrali operative territoriali stanziati grazie al PNRR 519.225 euro. Ci sono dei grossi investimenti sulle strutture territoriali e che quindi quello che noi saremmo chiamati a fare nei prossimi anni, ma nei prossimi mesi sicuramente sarà quello di investire nella medicina di prossimità e nella presa in carico del paziente. Ecco, il dato emerge oggi è di una reale presa in carico dei pazienti, assistenza domiciliare e quant'altro che va evidentemente inserita in una rete più complessa che passa dalle case agli ospedali di comunità per veramente portarci a casa anche tramite i distretti tutti i pazienti con comorbidità o malattie o patologie croniche. Parliamo di dipendenze tecnologiche, un fenomeno da combattere sotto varie forme, attraverso varie modalità. Una la propone Oikos con giochi da tavolo. Sentiamo di che cosa si tratta. Ci siamo accorti che i ragazzi e gli adulti hanno sempre più attrattiva verso le nuove tecnologie che non sono da demonizzare, ma noi abbiamo voluto creare un'occasione per tornare a riscoprire anche le vecchie modalità di divertimento, le vecchie modalità di condivisione, di stare insieme tra amici e in famiglia. E così la fondazione Oikos assieme a Gioeco e Dadi Mattoncini ha promosso. Nei giorni scorsi ad Ancona l'evento Vieni a giocare con me, progetto finanziato dal piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del gioco d'azzardo patologico e dipendenze tecnologiche con il patrocinio dell'Ast di Ancona. Oltre 250 persone tra bimbi e adulti hanno dunque riassaporato il piacere di sedersi assieme agli altri attorno ad un tavolo e condividere quei giochi di una volta per rasprigionare creatività e fantasia attraverso laboratori ludici. Il successo c'è stato, il progetto ha fatto centro, c'è l'intenzione di provare ad esportarlo anche altrove, non solo nel comune di Ancona ma magari anche fuori dai confini comunali. Sì, assolutamente sì, perché a grande richiesta il feedback che ci è stato dato proprio alla fine dell'iniziativa, super positivo, è stato chiederci ma quando tornate, quando lo rifate, dove lo rifate e noi stiamo rispondendo di tenersi aggiornati, di seguirci sui nostri canali dell'Oikos per scoprire dove saremo nella provincia di Ancona nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La fondazione Oikos opera da 34 anni nel territorio marchigiano offrendo una risposta immediata e diretta ai bisogni emergenti del territorio, prestando particolare attenzione alle dipendenze patologiche, ai minori vittime di maltrattamenti e abusi e alle mamme in difficoltà nel ruolo genitoriale. È importante quindi sostenere una fondazione per promuovere anche i progetti di prevenzione e benessere orientati nelle attività scolastiche per i giovani e per le famiglie. Per noi sicuramente il discorso della rete è un discorso importante quindi entrare in relazione con dei partner sia del territorio che non del territorio è fondamentale per creare diciamo delle risorse e delle soluzioni sempre aggiornate. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina facebook di Etv Marche. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.